400.000! 400.000! 400.000! Anzi, meno di 400.000! Eh sì, da grappeggiare da tutto sono diventati matti. Pensate, vendono, anzi regalano salotti completi come questi a meno di 400.000 lire. Sì, sì, avete capito bene, meno di 400.000, roba da matti. E poi sconti, sconti fino al 50%. E grappeggia mantiene quello che promette. Grappeggia a Redadutto e a Serenio, a soli nove minuti da Milano.